Capitano auguri, auguri, calcola che io ne ho 11 più di te, quindi insomma a voi, a te, e poi oh, se stai così, se vediamo fra nati 20 anni, dai a giù, forza rum. Caro Francesco, mille mille auguri, 15 anni fa siamo andati a fare una vacanza insieme in Egitto e in quell'occasione tu hai fatto la tua prima immersione in mare, ecco io penso che dipenda anche da quel bagno in quelle acque miracolose del Sinai il fatto che tu abbia questa longevità atletica e calcistica straordinaria, tantissimi auguri.